Stamattina non ho proprio voglia di andare al lavoro, vorrei restare nel letto. Dal mio sguardo e dai miei occhi si capisce già tutto. Per fortuna ho il mio gel contorno occhi Mirea con vitamina C, collagene, estratto di mirtillo e centella asiatica, l'ideale per eliminare le borse sotto gli occhi. Gli estratti naturali di ananas e ipocastano drenano i liquidi sgonfiando le borse, mentre il collagene e l'elastina esercitano un'azione filler e antirughe. E ora si parte alla grande.